Ciao, oggi voglio darti alcuni suggerimenti per come affrontare i conflitti all'interno di una coppia perché a molte persone piace pensare siamo una coppia felice perché non litighiamo mai ma davvero molto spesso le persone che vanno a fare terapia di coppia sono persone che in realtà evitano il conflitto e quando eviti il conflitto è molto difficile per l'altra persona venire a sapere che tu magari stai provando dolore o comunque conoscere i tuoi sentimenti perché ovviamente se non li comunichiamo l'altra persona non è un sensitivo insomma non ha la palla di cristallo per capire come ci sentiamo alcuni esempi di evitamento del conflitto potrebbero essere per esempio il mio partner si accorge che io ho ammaccato la macchina la fa riparare e per non creare un litigio magari non mi dice nulla oppure non sono d'accordo con il mio partner su come cerca di imporre la disciplina al nostro bambino però per non passare una brutta serata non gli dico niente oppure magari arriva il nostro anniversario lui non fa niente per me anche se io lo ritengo comunque un giorno speciale sono triste però per evitare il litigio comunque una discussione non dico nulla ecco tutte le volte che capitano cose di questo tipo aumenta la mancanza di connessione e il risentimento il rancore quindi è molto meglio viverlo questo conflitto e ora ti darò dei suggerimenti per come vivere il conflitto il conflitto calcola che innanzitutto per avere una relazione di successo dagli studi che cosa emerge emerge che quando non avviene il conflitto cioè in tutto il resto della giornata in cui noi non stiamo diciamo litigando per avere una relazione di successo ci vuole una proporzione di 20 interazioni positive per ogni interazione negativa con interazioni positive si intende per esempio facciosi con la testa una risata il tono cordiale dei complimenti cioè proprio le interazioni positive oppure il tocco rassicurante proprio con la mano mentre con interazioni negative una risata di presa in giro oppure tono sprezzante lo sguardo cattivo queste cose qua quindi 20 interazioni positive per bilanciare tutto il negativo che c'è nella relazione per avere perché questa relazione sia una relazione di successo che dura anche nel tempo e mentre durante un conflitto ci vogliono 5 interazioni è molto più difficile chiaramente durante un conflitto avere delle interazioni positive perché stiamo litigando quindi ci vogliono 5 interazioni positive per ogni interazione negativa durante un conflitto per avere una relazione diciamo di successo e la maggior parte dei problemi è stato visto quindi i due terzi dei problemi di coppia sono irrisolvibili nel senso che sono perpetui cioè durano all'infinito e l'argomento di cui si litiga più spesso qual è? non lo diresti mai veramente il nulla cioè la maggior parte delle coppie l'avresti mai detto litiga per il nulla io sì perché davvero tante persone veramente se ci facciamo caso tutti noi litighiamo magari per delle cavolate magari ce ne accorgiamo diciamo veramente stiamo litigando per questa piccola cosa sì quindi dato che magari questa cosa ti deluderà perché se io ti dico guarda che due terzi dei problemi che ci sono all'interno di una coppia dureranno per tutta la vita cioè sono perpetui infiniti allora cosa stiamo a litigare a fare? ma in realtà noi non dovremmo avere il focus sull'argomento del problema ma su come litighiamo cioè dato che comunque discuteremo sempre per qualcosa per qualsiasi cosa può capitare di discutere l'importante che cos'è? è comunicare e discutere nel modo giusto quindi per comunicare nel modo giusto che cosa potremmo fare? allora dato che spesso durante un conflitto che cosa succede? che ci vengono magari alcuni meccanismi che sono quelli di lotto-fuga e freeze che vuol dire dissociazione cioè quando io mi dissocio e mi disconnetto da quello che sto vivendo e la mia mente va totalmente da un'altra parte mentre lotta diciamo è che mi agito proprio ovviamente senza andare a parlare di violenza domestica ma nel senso proprio che mi arrabbio con l'altra persona oppure la fuga nel senso cioè con fuga si intende o che evito il conflitto proprio prendo e me ne vado oppure semplicemente lo evito magari senza andarmene quindi quando noi sentiamo che ci vengono queste ci accorgiamo che reagiamo in questo modo che cosa potremmo fare? potremmo prenderci del tempo lontano dal partner per noi stessi cioè per riprenderci in che modo? perché ovviamente non è che se siamo proprio mentre stiamo litigando io non è che di punti in bianco posso prendere e andarmene perché ovviamente l'altra persona si sentirebbe abbandonata quindi potrei dire guarda io adesso ho bisogno di prendermi del tempo per me per riprendermi perché veramente in questo momento non ce la faccio più però al mio ritorno e poi specifichiamo anche per quanto tempo stiamo via è molto importante che noi specifichiamo per quanto tempo stiamo via possiamo dire un'ora, venti minuti, due ore quello che vuoi poi l'importante è che nell'arco della giornata comunque tu ritorni non è che prendi, passi la serata via e se ne riparne il giorno dopo è importante che tu dici alla persona che ti vai, che ti prendi del tempo per te e fai qualcos'altro proprio prendi e vai via però è molto importante che gli dici quando ritorni poi quando vai via mi raccomando è fondamentale che tu non è che in questo momento che ti prendi da solo per te continua a ripensare a quello di cui stavi litigando con l'altra persona altrimenti peggioriamo solo veramente le cose ma devi fare davvero qualcosa che ti faccia pensare totalmente ad altro quindi non lo so vai a farti una corsa ascolti della musica suoni della musica se ti piace suonare oppure vai a fare una passeggiata qualsiasi cosa però mi raccomando è importante che tu non continui a pensare a quello di cui stavi discutendo con tuo marito con tua moglie perché altrimenti quando poi torni da lei è peggio di prima quindi tu devi fare qualcosa che non c'entra assolutamente niente con il conflitto che stavi avendo prima poi ritorni e quando ritorni dalla moglie o marito condividi con lei i bisogni e i sentimenti che provi rispetto a quello per cui stavate litigando e vediamo se facendo questo cambia qualcosa rispetto al conflitto che stavate avendo poi un'altra cosa importante è un esercizio che puoi fare o solo tu oppure se sei insieme a un tipo di persona diciamo che è anche disposta a fare questo tipo di cose può farlo anche lui o lei allora l'esercizio in che cosa consiste prova a pensare a delle litigate che magari si ripetono sempre nella coppia no proprio all'argomento per cui litigate spesso e che si ripete e riesci proprio a riconoscere il pattern diciamo l'argomento il nocciolo di quello che si ripete una volta che l'hai individuato proprio scrivi prendi foglio e penna e scrivi una breve storia breve ma nuova dove descrivi la tua posizione cioè proprio come la pensi tu e poi poniti queste domande rispetto alla tua posizione che hai scritto che significato profondo ha quello che la mia posizione è collegato a qualcosa relativo alla mia infanzia è radicato in alcune delle mie ansie in mie paure quali sono queste mie ansie quali sono queste mie paure oppure è collegato a delle aspettative che magari avevo in relazioni precedenti quindi quindi poniti proprio queste domande e cerca di dare una risposta sul foglio per esempio ti faccio un esempio magari io sto con mio marito e sono veramente arrabbiata perché lui tutte le settimane vuole uscire tre volte a settimana con i suoi amici e mi sento abbandonata e sola allora quando mi faccio questa domanda per esempio è collegato con qualcosa relativo alla mia infanzia allora ci penso dico ma quando io mi sento abbandonata perché mio marito se ne va tre sere a settimana con i suoi amici per caso mi fa ricordare qualcos'altro rispetto a quando ero una bambina e magari ci penso e mi viene in mente quando io ero piccola mio padre non c'era che cosa succede se per esempio mio padre non c'era mi ha trascurato io mi sono sentita tremendamente abbandonata da mio padre trauma tra parentesi che tutte le volte che il mio partner a meno che io non sia una persona che lavoro su se stessa che mi sto già occupando della mia bambina interiore che si sente sola e abbandonata e mi sto facendo da genitore da sola se non sono una persona che sta lavorando su se stessa il mio partner riattiva il trauma quindi mi fa sentire sempre abbandonata con questo non sto dicendo che per tutte le coppie vada bene che l'uomo o la donna esca tre sere a settimana per i cavoli suoi però voglio dire che se quello ti fa sentire sola e abbandonata ci sta che ti chiedi ma mi ricorda qualcosa della mia infanzia e se poi dopo quindi io riesco a capire che cosa mi sta riattivando e perché poi il problema qual è è che molto spesso se si tratta di una persona che non sta lavorando su se stessa che cosa succede in maniera inconscia in maniera inconsapevole che spera che il partner sia lui quello che gli fa da genitore ovviamente questo avviene a livello inconsapevole quindi io non è che cerco di accudire la mia bambina interiore da sola ma io mi aspetto che mio marito sia quello che mi fa da papà ovviamente questo avviene sempre in maniera inconsapevole ma non andremo da nessuna parte se io mi aspetto che sia il mio partner a curare le mie ferite devo essere io a curare le mie ferite perché solo così si cureranno le mie ferite tra parentesi e poi ovviamente per l'amor di Dio c'è anche l'amore la relazione eccetera però è fondamentale è imprescindibile che sono io la prima a prendermi cura delle mie ferite no? e e poi dopo che ho ho risposto diciamo tutte queste domande se il mio partner è quel tipo di persona che sarebbe disponibile disposto a fare anche lui un esercizio di questo tipo lui deve fare la stessa cosa e io oltre a farlo per la mia posizione importantissimo lo faccio anche per la sua e questo dopo che ho finito di rispondere a tutte le domande per me faccio la stessa identica cosa per la sua posizione che magari è opposta alla mia quindi scrivo la sua posizione e magari le domande più personali tipo è collegato a qualcosa della mia infanzia magari queste cose del mio partner magari non le so quindi lascio vuote insomma le cose che non so dopo che ho fatto anche ho risposto alle domande anche per il mio partner se lui se lui è quel tipo di persona disposta a fare un esercizio di questo tipo gli chiedo di farlo anche lui rispetto al conflitto che abbiamo spesso e poi alla fine confrontiamo quello che abbiamo scritto quindi io condivido con lui quello che ho scritto la mia posizione è la sua lui condivide con me quello che ha scritto anche lui e vediamo se dopo questa condivisione magari da lì abbiamo nuovi spunti per per affrontare questo conflitto che magari si ripete nella nostra coppia da tanto tempo e secondo me questo può essere un buono spunto poi un'altra cosa importantissima che ci aiuta tanto ad affrontare i conflitti qual è è accettare le offerte di connessione da parte dell'altra persona che cosa sono queste offerte di connessione profonda sono che magari mio marito è impegnato a fare qualcosa e io a un certo punto mi accorgo di qualcosa di bello qualsiasi cosa oppure che ne so ho preparato una torta ho fatto uno spritz mi accorgo del tramonto splendido splendente e gli dico mentre lui sta facendo le sue cose amore ho preparato un bicchiere di vino ti interessa oppure qualsiasi altra cosa oppure c'è un tramonto bellissimo il fatto che lui accetti la mia offerta di connessione profonda questo significa accettare cioè significa che lui mi deve rispondere subito mi deve rispondere e ovviamente tu mi dirai sì ma Elisabeth non è possibile che tutte le volte che però tu fai un'offerta all'altra persona dica sì certo nessuno è perfetto però ricordiamoci che noi più accettiamo questa offerta di connessione da parte della moglie del marito del tuo ragazzo creiamo proprio facciamo un investimento creiamo una base le fondamenta delle fondamenta che ci aiuteranno poi in futuro quando litigheremo perché se noi coltiviamo prima le fondamenta e quindi c'è questa connessione profonda tra me e lui poi quando capiterà che litighiamo sarà molto diverso il modo in cui litigheremo quindi magari che ne so lui non porta fuori la spazzatura no e io gli dico cioè se c'è già una buona base è molto più probabile che se lui per l'ennesima volta si è dimenticato di portare fuori la spazzatura io mi arrabbi e abbia un tono sprezzante nei suoi confronti perché si è dimenticato per la decima volta di portare fuori la spazzatura ma se abbiamo una connessione bella coltivata perché io quando faccio le mie offerte di connessione lui mi risponde quando lui cerca di connettersi con me io pure gli rispondo la maggior parte delle volte diciamo quando poi mi verrà da lamentarmi per il fatto che lui non ha portato via la spazzatura non lo dirò arrabbiata come una verba ma lo dirò con un tono di voce molto diverso dirò amore ti ricordi che la spazzatura è da portare fuori invece che arrabbiata capito e questo fa molta differenza perché proviamo a confrontare due situazioni in cui il conflitto è un'esplosione di una bomba e l'altro in cui è una discussione molto più affrontabile sono due cose davvero molto diverse e noi ovviamente cerchiamo di creare un qualcosa di recuperabile diciamo questo è tutto ciò che può aiutare almeno che mi viene in mente per questo video che può aiutare la comunicazione all'interno di un conflitto per qualsiasi domanda fammelo sapere nei commenti anche se vuoi condividere la tua esperienza a livello di discussioni di litigi magari all'interno di una coppia e non dimenticare di iscriverti al canale e ci vediamo per il prossimo video